Ora nuovi amici che arrivano nuovi membri della fantastica famiglia di Zabucerline Wow! Fantastico! Wow! Wow, che bello! È vero, una fegatissima fegata! Wow! Fantastico! Vai, 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 vai! Vai, va! Vai, va! Guarda, basterete il tuo sorriso per aver fatto tutta questa fatica! Avere un sorriso! Vai, vai, eh! E' vero, vai, mi? Allora... Wow! 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 Che bello! Minchia! Vai adesso! Beh, a caso! Vamo! Che bello, eh! Che bello, Matteo! È bello, cavolo, eh! Ok? Tu sei esperto? Le mani qua! Ehi, faccio il secondo minera! Oh! Wow! Il mio nome è... Ehi, sì! Vogliamo... Ehi, tutti insieme! Tutti insieme! Ehi, sorriso! Oh! 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 Ehi, faccio il nome! Oh! 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 E' già fatta l'intervista! Ok, andiamo sempre dall'amato! Suor Aiden! Ed Ernest, noi vogliamo sapere il tuo nome! Federica! Federica! E vogliamo sapere se questa è la tua prima mototerapia! No! E' anni che ho fatto! E' anni che vengo ancora! E' anni che lo faccio e vengo ancora! Perché quando la provi una volta la mototerapia è come una droga! Non puoi più farlo a meno! Sono belli ragazzi! Sono belli ragazzi! Belli o bravi? Tutti e due! Tutti e due! Sono tutti belli! Tutti! 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 Sì, lui è speciale perché fa tante belle cose!